Partiamo degli equilibri, insomma, Partito Democratico, Italia Viva, intanto in Regione Toscana. Che termometro ci può dare? Ma io credo che dentro questa coalizione di governo che vede sia Italia Viva che Partito Democratico sostenere il Presidente Gianni, c'è una comunione di intenti. Dopo un anno e mezzo siamo insieme, si sta governando, stiamo adesso affrontando questioni serie, importanti. Penso che affronteremo a breve il piano sui rifiuti e dobbiamo affrontare un piano regionale di sviluppo, la definizione degli asset di aziende sanitarie. Abbiamo tante questioni sul piatto, le questioni energetiche, stiamo affrontando il tema degli investimenti, l'allocazione del PNRR, c'è una linea di condivisione. Ovviamente questo non nasconde il fatto che siamo due partiti differenti e molte volte ci siamo trovati su alcune posizioni differenti ciascuno di noi a rivendicare posizioni in termini strategici che non sempre possono coincidere. Dentro però una cornice ampia, per quella che ci siamo sempre definiti sia io che Presidente Ceccarelli, come rispettivi capogruppi, sia l'Italia Viva che del Partito Democratico, nel rispetto reciproco e abbiamo dimostrato che al di là della questione che riguardava lo Statuto, anche alchimie politiche, chi sta provando anche dentro il Partito Democratico a spingere su un assetto di cambiamento di maggioranza perché 5 Stelle possono tornare o non tornare nella maggioranza di questa regione, ricordo a quelle persone che fondamentalmente 5 Stelle hanno sempre votato contro quello che noi abbiamo votato in Consiglio regionale, per un anno e mezzo hanno sempre sostenuto una linea politica differente, sono contrarie a gran parte delle strategie di investimento che noi stiamo ipotizzando, non fanno parte della proposta politica con la quale ci siamo candidati un anno e mezzo fa, quindi io non vedo un cambiamento dell'assetto di maggioranza, vedo un rapporto dialettico fra PD e Italia Viva che però ci vede a noi come Italia Viva essere sentinelli di quel riformismo che tiene l'attenzione su alcune questioni, penso a quella infrastrutturale, penso a questioni di carattere economico, penso a questioni di sviluppo che secondo me portano e continuano per esempio la regione toscana a stare nella direttrice dello sviluppo del riformismo, penso ai proposti di legge che noi abbiamo fatto per la semplificazione urbanistica, per il superamento della legge Marzon, per semplificare ai comuni la vita della programmazione, tante questioni che verranno sul piatto, quindi io mi aspetto in questo anno che ci porterà fino a metà mandato, diciamo un po' di ragionamenti, ma comunque non ci vedo conflittualità, ci vedo possibilità di lavorare bene insieme, ovviamente poi quando sarà a metà mandato sarà l'occasione più importante per fare una revisione di quello che abbiamo raggiunto e quello che ci prefigiremo di raggiungere nella seconda metà del mandato.